Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi nuovo video acquisti manga. Ma attenzione, non è un vero e proprio acquisti manga come vi ho abituati, dove vi mostro le uscite di marzo, febbraio, gennaio. No, è un più un recupero manga che ho fatto in questi giorni qui, che non sono assolutamente legate a marzo. Sì, forse c'è qualcosina, ma la maggior parte sono tutte uscite un po' sparse anche di mesi fa. Però non volevo inserirle nel prossimo video acquisti manga, dunque ho detto, ma sì, facciamo un video extra. Piccola premessa, se sembro in galera, in carcere, ovviamente lo sono, ma a parte quello, fuori è notte, dunque ho abbassato le tapparelle. Vi ricordo di passare in descrizione per tutti i codici legati al mondo di Starshop, dunque spedizione gratuita e 15% sui manga. E detto questo, partiamo subito con gli acquisti. Partiamo questo mese da Star Comics. Se vi ricordate, nell'acquisti manga di due settimane fa, vi ho parlato di Jagan, una serie che mi aveva entusiasmato. E stavo aspettando il recuperone da Starshop. E dunque, eccoli qua. Tutti i cinque volumi rimanenti. Il prezzo di copertina a volume di 5,90€. Le copertine sono molto fighe. Io li ho già letti tutti, dunque sono in pari. Questo mese, a metà mese, esce il numero 8, che vi mostrerò poi nel prossimo video. Cosa dire, cosa dire? Mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente tanto. L'unico volume che mi ha lasciato un po' perplesso è il numero 4, ma vabbè, ci sta un po' di alti e bassi. Comunque nel complesso, veramente, un'ottima serie che vi straconsiglio. E mi fa molto piacere che sul gruppo, in veramente tanti, mi sono sorpreso, l'abbiano recuperato. Mi sono veramente sorpreso e mi fa molto piacere. Dunque spero, ecco, che il mio consiglio vi sia piaciuto. Ecco, che adesso non mi ammazziate tutti fuori da casa. Comunque, ecco perché mi sono tirato giù. Perché sono tutti quelli fuori in strada che maledicono perché gli ho consigliato Jagan. Vabbè, dai, a parte le boiate, andiamo avanti. Se vi ricordate, non avevo nemmeno recuperato il numero 6 della saga di Cell. Mi ero dimenticato per un problema, vabbè, che vi ho già spiegato. Cosa dire della saga di Cell? Mi è piaciuta, mi ha veramente sorpreso. Io avevo visto l'anime, non mi ricordavo un tubo e mi ha sorpreso. Cell l'ho rivalutato, ho rivalutato questa saga qua. Dunque mi ha fatto molto piacere leggerla e non vederla. Adesso, il mese prossimo, dunque già questo praticamente, ci spostiamo con la saga di Majin Bu. E dunque l'ultima dello Z, che adesso non ricordo, ma secondo me avrà 10 volumi circa. Adesso vado un po' a memoria, sì, secondo me è una decina di volumi. Comunque dai, direi di passare oltre. Passiamo a un recupero targato J-pop di alcuni mesi fa. Un po' vecchiotto già, diciamo così. Ovvero World Arem. Il prezzo di copertina è di 6,50€. Me l'hanno straconsigliato. Ragazzi, vi amo, vi adoro. Mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente, ragazzi, cioè ovviamente, io non posso dirlo, ma ovviamente avete capito, eh? Praticamente narra le vicende di questo ragazzo che si ritrova da solo, cioè l'unico uomo rimasto sulla Terra. Sono rimaste unicamente donne. 5 miliardi di donne. Ora, io non vi dico il protagonista cosa deve fare, ma ci arrivate da soli, ragazzi, è un ecci. Cioè, capite voi? 5 miliardi di donne. Ups, ovunque, tette ovunque. Mi viene in mente il buon alta che lo saluto, tette ovunque. Vabbè, mi è piaciuto veramente tanto. Ecco perché ho ovviamente recuperato sempre tramite Star Shop gli altri tre volumi usciti in Italia. Il volume 4 è pazzesco. C'è una copertina da incorniciare. E l'altra sera, stavo leggendo volume 1, tutto apparanzato sul letto, entra mia mamma, io tranquillo lì, così, con il tettone in bella vista, entra mia mamma, mi guardo, io la guardo. Dico, no, e invece sì, mi ha sgamato in pieno. Vabbè, che c'è di male, no, direte anche voi. Comunque, mi sono perso. Questo mese qua deve uscire il numero 5, che ovviamente recupererò, e poi ve ne parlerò poi nel prossimo video a questi manga. Comunque, World Area, ma assolutamente consigliata. Il prezzo è un po' altino, però secondo me ci sta tutto. Penultimo volume di J-pop, la novel di The Promies Netherland. Partendo dal presupposto, mi sono dato anche una cosa nell'occhio, vabbè. Partendo dal presupposto, ragazzi, la copertina è magnifica. Cioè, io questa me la incornicio. La stacco, la strappo, no, scherzo, non lo farei mai. Forse sì, vabbè, me la metto lì. Cioè, è bellissima. L'edizione in sé, fantastica. La carta, fantastica. Il prezzo di 12 euro, azzeccatissimo. Vi regalano anche un segnalibro. Dunque, sempre omaggi ben graditi. In più c'è anche un poster, che non è un poster, perché non si può strappare, di The Promies Netherland, che è bellissimo. Anche questo, ragazzi, avrebbe da incorniciare. Ora, o lo taglio, no, scherzavo, non lo farò mai. Cioè, no, potrei farlo, come anche per incorniciare il libro. Però, vabbè, cosa dire sul volume in sé? Io, come sapete, seguo unicamente l'anime. Non è spoio, dunque, voi potete leggerlo. Ma il problema è che il contenuto è abbastanza sottotono rispetto a quello che ci ha abituato il manga. Praticamente vi va a spiegare le vicende di Norman di quando erano ancora dentro al Orfanotrofio. Il problema, adesso, io devo ancora leggerlo, le prime recensioni, anche dei video che ho visti in giro, non ne parlano molto bene. Il mio consiglio, ragazzi, da collezione ci sta tutto. Poi, se state seguendo il manga, avrete di sicuro recuperato il bundle da collezione, il box da collezione targato J-pop, con in anteprima il quattordicesimo volume, che secondo me ci sta tutto. Dunque, insomma, un buon volume, l'edizione in sé ci sta tutto. Infatti ho fatto anche i miei complimenti alla J-pop, perché mi sono meravigliato. È veramente... Cioè, carta, copertina, veramente azzeccata. Dunque, bravissimi. Concludiamo questo breve ma intenso acquisti manga con il terzo volume della raccolta di The Walking Dead. In pratica, se voi volete recuperarvi tutto The Walking Dead con circa 140 euro, la raccolta fa il caso vostro. Saranno otte uscite a cadenza trimestrale dal prezzo di 20 euro. L'unico difetto è proprio questo, che è un malloppone, peserà 20 chili, dunque da leggere magari sdraiati, spaparanzati così sul letto, dopo un po' le braccia da nerd cedono. Però questo è l'unico difetto. Poi, ovvio, se volete edizioni un pochettino più di lusso, cartonate, Saldapress le fa, ma costano un po' di più. Questa, secondo me, è un'edizione fantastica per chi vuol completarsi The Walking Dead senza sborsare un capitale. E attenzione, ragazzi, ovviamente, l'ho preciso, il manga, cioè il manga, il fumetto, è mille volte meglio rispetto alla serie TV. Io, ragazzi, sono un grandissimo fan di The Walking Dead e della serie TV, che ho abbandonato perché dopo la sesta stagione mi è caduto in basso una porcheria. E dunque, grazie a questo, lo voglio, diciamo, recuperare e riniziare. E attenzione, perché ci sono veramente tantissime differenze tra la serie TV e il fumetto. Dunque, io per me, è consigliatissimo, dunque recuperatelo. E vedo che su un gruppo in diversi lo stanno prendendo, dunque mi fa molto piacere. Detto questo, il video termina qui. Spero che sia stato di vostro gradimento. Avevo un po' di manga da parte, ho detto, ma sì, dai, facciamolo. Dunque, se volete altri video così, magari ditemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo di passare da Starshop tutte le cose in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!